Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Campania verso la zona rossa, la decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore sulla base dei dati raccolti dalla cabina di regia. Ancora boom di contagi nel Vesuviano, un altro decesso si è registrato ieri nella città di Torre del Greco. A tal proposito abbiamo chiesto ai cittadini cosa pensano della situazione dell'incremento dei contagi e delle nuove probabili chiusure. Intanto tutto pronto per l'avvio della campagna vaccinale nella città di Torre del Greco. Sopralluogo con le nostre telecamere questa mattina alla Santissima Trinità dove i locali sono stati attrezzati per consentire l'avvio della campagna vaccinale. Questo è molto altro, guardiamo i servizi. Campania sempre più verso la zona russa. È quasi certa, alla luce dei dati dell'ultima settimana, la decisione che prenderà il Ministro della Salute Roberto Speranza il prossimo venerdì. Come ogni fine settimana, la cabina di regia per il monitoraggio si riunirà per valutare i dati epidemiologici di ogni regione e decidere sulle misure da adottare in conseguenza. Dal 24 febbraio a oggi la campagna è sempre stata sopra i 2.000 positivi al giorno, con una preoccupante proporzione tra positivi e tamponi. Tra i dati in peggioramento in campagna anche l'occupazione dei posti letto negli ospedali. In particolare l'aumento delle terapie intensive, saliti oggi a 137. Aumenta anche il numero dei sintomatici, cambiamenti che già avevano portato nei giorni scorsi il governatore Vincenzo De Luca a chiudere nuovamente tutte le scuole in presenza e che ora potrebbe portare la regione in zona rossa, con una escalation molto rapida, visto che solo due settimane fa la regione era in zona gialla. Nuovo boom di contagio a Torre del Greco. Ieri il sindaco ha comunicato 116 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui un ripositivizzato, due in regime ospedaliero e di restanti in isolamento domiciliare. 27 invece le nuove guarigioni. Non si fermano i decessi. Ieri è stata comunicata la scomparsa di un cittadino di 81 anni. Sono stati 194 invece i cittadini di Ercolano sottoposti a tampone. Fra questi sono stati registrati 45 nuovi positivi a fronte ai 29 nuovi guariti. Sette di questi positivi avevano riscontrato la cosiddetta variante inglese. In totale al momento sul territorio cittadino si registrano 454 cittadini positivi, 34 dei quali con variante inglese. Sono invece 53 i cittadini di Castellammare e Stab e risultati positivi al coronavirus. Tra i nuovi contagiati ci sono 3 bambini, 3, 4, 6 ed 8 anni e 3 persone, 81, 82 ed 85 anni. Sono stati lavorati complessivamente 205 tamponi. 26 invece i guariti, tra cui 3 ragazze di 14, 15 e 16 anni. Aumentano i contagi soprattutto nei comuni del Vesuviano e a Torre del Greco, dove stiamo raggiungendo quota a mille persone attualmente positive. Per questo è molto probabile che venerdì l'intera regione verrà chiusa di nuovo in zona rossa dalla cabina di regia per il monitoraggio. Abbiamo fatto un sopralluogo per le strade del centro di Torre del Greco per vedere come i torresi stanno reagendo a queste nuove chiusure e soprattutto se stanno rispettando le norme. I dati epidemiologici della regione Campania potrebbero portare a una zona rossa da venerdì. Lei pensa sia giusto? Sì, sia molto giusto perché solo per sconvincere questo male indefinito e subito ci vuole delle restrizioni efficaci ed efficienti. In più il vaccino che stiamo aspettando, si fa troppo chiacchiere sui vaccini e non si capisce dove devono andare, dove devono arrivare. Purtroppo il nostro sistema preferisce fare i tamponi che costano molto di più e non il vaccino. Questa è la reale situazione. A zona rossa per cosa? Voglio capire che chiudiamo, è zona rossa che possiamo fare più morti o più malati di Covid e poi chiudiamo il pronto soccorso. Ma allora, qua ci dobbiamo credere noi al Covid, ma le istituzioni non ci credono perché la sanità, oggi la sanità, chiudiamo l'ospedale Maresca, allora che vogliamo fare? Facciamo perché ci devono chiudere. Poi dove ci curiamo? I primi a non crederci la zona rossa perché dicono zona rossa, zona arcobalene, sono le nostre istituzioni che non credono al Covid. Perché questi qua vogliono fare soldi, questi qua vogliono che noi ci ammaliamo e moriamo. Perché così vogliono. Perché se noi chiudiamo il Maresca, lo ripeto di nuovo, se noi chiudiamo il Maresca, allora sono i primi loro che non credono al Covid. Quello che preoccupa maggiormente è la totale assenza di controlli. Soprattutto per quanto riguarda i giovani, sappiamo che i contagi si stanno trasmettendo soprattutto attraverso cittadini di giovanità, ragazzi che non rinunciano a un caffè con gli amici, a un aperitivo. Il Sindaco aveva disposto maggiori controlli in città proprio per controllare queste fasce della popolazione e inibire comportamenti scorretti. Ma come possiamo osservare, di volanti non c'è neanche l'ombra. Da venerdì potremmo rientrare in zona rossa, cosa ne pensa? È fatto bene perché qua non c'è controllo, non c'è niente, non c'è niente, praticamente niente, niente di niente. I vigili non ci sono, i carabinieri, niente, i controlli non ce ne sono. Quindi pensa che i torresi non rispettino già le norme che ci sono? No, per niente, affatto. Ma basta guardare in giro, vede tutta questa gente che c'è in giro. C'è un casino praticamente, non va bene così. Siccome tante persone non prevengono determinate cose, credo che una zona rossa ci può stare, però per un periodo di tempo limitato, non troppo lungo, perché poi dobbiamo anche dare le possibilità di lavorare, di mandare avanti le imprese e tutto quanto. Credo che è una decisione che dovrà essere accettata, ma non per un troppo tempo lungo. E credo che il Comune dovrebbe anche dare dei sussidi alle persone che hanno bisogno in questo periodo, in questa fase. I contagi si stanno differenendo anche e soprattutto fra i giovani. Pensi che rispettano le varie normative? Allora, io credo che se inizio io, se inizio un'altra persona, iniziamo tutti, l'unione fa la forza e possiamo vincere. Però non dobbiamo essere meno i freghisti, dobbiamo essere uniti e dobbiamo combattere questa epidemia nel miglior modo possibile. La zona rossa andrebbe messa però con un po' di leggerezza, molto più morbida, che potesse dare spazio alle menti di poter essere libere in una certa misura. Siamo in esclusiva nel centro della Santissima Trinità, dove dovrebbe attivarsi il piano vaccinale per il Comune di Torre del Greco, soprattutto per la vaccinazione dei cittadini over 80. Come possiamo vedere, l'interno è già completamente allestito per accogliere i pazienti e procedere alle inoculazioni. Tutto pronto per l'avvio della campagna vaccinale sul territorio di Torre del Greco. Dopo l'intervento del sindacato anziani della CGL e del comitato di quartiere, portavoci delle lamentele e delle preoccupazioni delle famiglie con anziani over 80 costretti a recarsi nei centri vaccinali di Gragnano e Pollena, si è corsi ai ripari per velocizzare l'avvio delle vaccinazioni nella città di Torre del Greco. Le immagini raccolte in esclusiva dalle telecamere di TV City dopo il sopralluogo di questa mattina mostrano come sono stati attrezzati i locali della Santissima Trinità adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, concessi dall'amministrazione comunale all'Asla per consentire l'avvio in tempi brevi della campagna vaccinale sul territorio. Ci sono le postazioni per le vaccinazioni e quelle individuate come sala d'attesa e il frigo che conterrà le dosi di vaccino. Sarà possibile accedere utilizzando l'ampia aria parcheggio antistante l'ingresso che è stata appositamente liberata. Secondo le notizie raccolte questa mattina, con buona probabilità si dovrebbe partire nella giornata di lunedì. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani. A presto. Autore dei sorrisi